E ora voglio presentarvi Franco Longo per Indian Victory. Franco come va questa edizione ECMA? Sta andando molto bene, noi siamo contenti di partecipare a questa edizione perché è la celebrazione dei 100 anni di ECMA. Abbiamo fatto parecchi anni noi qui all'ECMA e quest'anno siamo qui presenti con Indian e Victory. Noi importiamo le Indian dal 2008 e le Victory dal 2011. Siamo anche specializzati nella trasformazione delle moto da due ruote a tre ruote. Infatti mi parlavi prima, è un po' una novità adesso. Esatto, diciamo che all'inizio siamo partiti con la Honda Goldwing, poi siamo passati ai modelli Harley Davidson, siamo passati ai modelli della Triumph. Però adesso la gente che comincia a conoscere il mitico marchio, la prima moto americana nata nel 1901, la Indian, vogliono i trike della Indian e noi li stiamo preparando. E voi li avete quasi pronti? Certo, certo, saranno pronti i primi e vengono pronti il 15 gennaio. Perfetto, bene ti ringrazio, ti lascio qua al tuo stand a lavorare, ci vediamo qua in giro a l'EICMA. Ciao, buona serata, ciao. Grazie.